Di ragazzi organizzati per manifestare la protesta e poi vedete berretti rossi, incappucciati, cioè questa è gentaglia, è gentaglia che si è permessa di fare quello che ha fatto, c'è un bilancio anche la vergogna nella vergogna perché veramente io credo che il popolo civile come noi siamo, quando si trova di fronte a queste situazioni dovrebbe intervenire, intervenire e menarli perché questi non capiscono solo di essere menati. Ma siete stato voi? Sono le drombe angeliche!